Inter, fatta per Klassen, ultimo regalo di Marotta e Ausilio a Inzaghi. L'adnerazzurro ha strappato il Sial Ajax, il giocatore firmerà un biennale.Il colpo di coda di Beppe Marotta e Piero Ausilio porta dritto in Olanda, a casa Ajax. Come anticipato ai nostri microfoni a margine del sorteggio di Champions, l'adnerazzurro e il DS hanno chiuso il mercato con il botto regalando a Simone Inzaghi, Tevi Kwasen, duttile centrocampista classe 1993 in scadenza di contratto a giugno 2024, che gli olandesi hanno liberato risparmiando almeno l'ultimo anno di ingaggio. Il giocatore firmerà un contratto di un anno con opzione per un'altra stagione a 1.5 netti, e andrà a completare un reparto adattato con la conferma di Sensi dopo il fallito. Assalto a Samarzi che nel quale rimarrà anche Aslani. L'Inter adesso è completa, costruita al meglio con alternative in ogni ruolo e pronta a dare l'assalto allo scudetto della seconda stella. Inzaghi ha per le mani una fuori serie nonostante la perdita, in attacco, di due bomber di prima fascia come Lukaku e Dzeko e gli addi a Brosovic e Onana. Il lavoro degli uomini mercato nerazzurri è stato quasi perfetto, fatta eccezione, diciamo, per l'affare Samarzi, e Kwasen altro non è che l'ultimo tassello di una rosa che non sembra avere difetti. L'estate interista si chiude essenzialmente qui. A meno di qualche ritocchino in uscita al momento non previsto e le prossime ore serviranno solamente per le visite e la firma dell'ultimo arrivato in casa Inter.